In diretta dal Teatro Vittoria di Cascine di Buti, signore e signori, buonasera e benvenuti ad Insieme. Vi ringrazio tanto, già siete in tanti e quindi vi ringraziamo tanto per essere venuti. Quindi, come abbiamo già qui alle nostre spalle, abbiamo la banda giovanile Ambima di Pisa. Una serata ricca anche di tanti personaggi, perché abbiamo anche degli ospiti, le autorità che poi le presenteremo alla fine e poi è una sorpresa per quanto riguarda me che ve la svererò dopo. Ma allora iniziamo subito con le danze, con il primo pezzo scritto dal maestro che abbiamo qui con noi, Mauro Rosi, cronvestista, compositore e direttore di vari organici, tra l'altro anche l'avevo visto alla Montecatini Jazz Band, che ci ha regalato una ricca produzione di brani che spaziano dalla musica classica a quella sinfonica, da quella bandistica fino a quella jazz. Questo brano, scritto nel 2017, ha appunto una marcia in stile comico, da intrattenimento, che si riallaccia pienamente al genere, che combina teatro, canzoni, commedie e danza, diventato famoso in Francia sulla fine del XIX secolo. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Gatti, che è l'ordito qui. Con Cabaret March suona la banda giovanile Ambima di Pisa.